ragazzi buongiorno non potete mancare perché tra poco si giocherà una partita molto importante è una partita dove i protagonisti sarete voi i protagonisti proveremo ad esserlo anche noi in campo e quindi noi vi aspettiamo perché questi match è impossibile non essere presenti perché quando si fa un po di sport e si fa del bene per altri divertendoci tutti insieme diciamo che è un'occasione bella per stare insieme a tutti voi noi vi aspettiamo al campo l'orario lo trovate qui sotto non potete mancare quindi io vi dico che sarò presente con me ci sarà anche carlo ancelotti che vi aspetta e vi saluta ciao ragazzi ci sarò anch'io l'indirizzo è questo qua che trovate sotto cercate di essere presenti perché già a napoli è dura a vincere ma queste partite fanno del bene io ci sarò con me ci sarà anche Zlatan Zlatan ci sei? penso di sì se non venite per me è un'illusione molto difficile da superare potrei prendere Mino Raiole e mandarvelo a casa vostra quindi cercate di essere presenti ciao